secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie madonna no vabbè ma che cazzo è sta roba cioè c'ho le stesse vibes di quando del momento di armored core quando c'è il pezzo che fa ho tolto tutti gli imitatori all or nothing che sparisce il sound uguale di un'epicità fuori di testa sta roba è alieno è aliena all'angolo che cazzo bro un carro armato che vola ha tirato un carro armato il backup no andrea troppo più forte ora veramente ora geneticamente superiori sembriamo eh bro ho una paura di cadere ho una paura di cadere folle no raga è insane sto gioco è insane io non so che cazzo io volete dire cioè io capisco che allora io non ho mai giocato scusatemi eh non premo niente e lasciamo qua sul risveglio no ok raga ammettite il cazzo che vi ha io non ho mai giocato final fantasy in vita mia ma io c'ho il cazzo di marmo mi sto gasando cioè io non vedo l'ora che parte il filmato co2 vieni qua fio della mignotta quel uomo grazie gatto per il suo appagamento benvenuto oh ottima carne eh mi è appena arrivata e fresca ahahahahah aspetti qui un momento signore tra poco assaggerà la migliore carne macinata della sua vita beh è quella cosa che dici ah mi mancava questo momento e ti fa pure capire che sei nel finale quando va tutto in modalità trash poi ti lascia il 5 e il 6 che è quello oh no ha suon di buffare in testa così ma che cazzo di figata di nuovo tutto così incredibile madonna pure il cazzo è drittito incredibile la musica poi la musica poi la sto sbavando il sandwich ah no pure il piano di sopra forse proviamo colombia andrà perfetto sono quasi morto ma ero scordato e c'ho un attacco gammigazzo ma ero scordato e c'ho un attacco gammigazzo dovete sentire cazzo ah 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 dobbiamo durare le armi per fightarlo beh si devo manca a far così ho 40 kg di armatura in più tu figo veramente bello il fatto di cambiare forma una bomba Starks ora ora è veramente bello il gioco mi sta prendendo tanto invece avversi con le abilità per i danni ecstasy sono creature create da quegli abitanti che c'erano prima di voi è impazzito è impazzito calmo vaffanculo dammi il pad di Wukong va adesso non delude Wukong non delude alla salute è impazzito il pad regà vedete il pad di Wukong non ti conosco mercante the perfect person ti piace? no mi è dispiaciuto Zen se ti devo dire la verità ummm mmmmm learning never meant to do this thing to you when did the royalists arrive? right after you went inside just when we thought we were shot of titan's lot in pile Odin's not enough of them to worry us though no Buongiorno! 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 Buongiorno!